lo stacco con Miracle BF attaccato da Luxury Crown ATC poi Navi B Luxury Crown che passa a condurre su Miracle BF avanza subito all'esterno Nemesirab in corda Navi B e poi Nevea di Esposito intanto Nemesirab risale all'esterno va su Luxury Crown ATC si porta presso Nesea, Nemesi che passa a condurre Nesea a ridosso in corda Luxury su Miracle largo Lepre Petral il passaggio ai primi 600 metri in 47 terza pariglia esterna per Nasdaq Griff seguito da Nevea di Esposito e poi da Mondo dell'est 47 600 e adesso il passaggio a metà gara in 1.3 e mezzo per Nemesi Nesea all'argo in corda Luxury all'argo Lepre Petral poi Nasdaq Griff intanto si va al chilometro mille iniziali passati sul piede dell'1.19 con Nemesi Nesea all'argo Lepre in terza poi Luxury Nasdaq all'esterno ancora per le vie brevi Legacy di poggio 400 metri al termine con Nemesi in vantaggio a ridosso c'è Nesea in corda Luxury con all'argo Lepre Petral terminata la curva conclusiva ingresso della retta di arrivo con Nemesi al comando Nesea che insegue poi Lepre Petral e Nasdaq Griff Nemesi Rab che prosegue in vantaggio e così vince ancora una volta Lorenzo Alessi su Nesea e Lepre Petral ennesimo successo dicevo per Lorenzo Alessi che consolida il suo primato di vittorie nell'arco dell'anno nella categoria dei gentlemen si avvia verso la conquista del frustino d'oro della categoria la media direi intorno all'1.17 forse anche un filo scarso Nemesi Rab Lorenzo Alessi palomba al training i colori della scuderia Lady Anastasia la quota al totalizzatore è di di 3 e 89 9 9 10 10 11 11 14 15 15 15 15 Grazie a tutti